Buongiorno a tutti, sono qui quest'oggi per annunciarvi che LG nei prossimi giorni lancerà e diventerà anche LG protagonista del mercato di wearables con un prodotto che sicuramente sarà apprezzato dai nostri utenti e dal mercato. EG Watch, il primo smartwatch che avrà al proprio interno il nuovo sistema operativo annunciato da Google che è Android Wear. Sicuramente per noi è un nuovo segmento che andremo a presidiare, lo vogliamo fare in grande stile. Il lancio del prodotto avviene assieme al lancio del LG G3 e proveremo e lo comunicheremo assolutamente assieme all'LG G3 anche perché i due device vivono assieme. Quindi per questo che LG proporrà il proprio smartphone LG G3 e lo smartwatch G Watch su tutti i punti vendita a partire dai prossimi giorni dove ognuno di voi potrà provare sia il nuovo smartphone sia il nuovo smartwatch di LG. Non solo, siccome LG vuole dare valore ai propri utenti faremo una promozione al consumo e chiunque comprerà entrambi i due prodotti potrà ricevere un rimborso di 100 euro. Quindi assolutamente due prodotti eccellenti, due prodotti nuovi con la migliore tecnologia di casa LG con gli ultimi software e sistemi operativi di Google li trovate sui punti vendita con un'offerta strepitosa che spero tanti utenti coglieranno al volo. Grazie a tutti, vi saluto, a presto!